Il Jekt torna a casa con un pugno di mosche. Nulla di fatto quindi né a Vienna né a Roma. Il governo austriaco infatti non intende fare marcia indietro sulla decisione di chiudere le frontiere e Roma rimanda a casa con qualche rassicurazione i tre governatori di Tirolo, Alto Adige e Trentino. Vane quindi le richieste di compaccer Rossi e Platter che chiedevano di non chiudere i valichi di confine tra Alto Adige e Tirolo. A breve militari e filo spinato arriveranno a Resia, Brennero e San Candido ma dall'incontro di ieri con il ministro dell'interno italiano Alfano arrivano rassicurazioni sulla gestione dei migranti. Vane quindi non si può essere una generale seria un' pericolo per cucina Tennessee. Lo vario che miga e attiva sono stato sempre più forti come triniamo. Lo è che non so messe mai va, c'è tempo la verità che si è dunque. Lo è che non ci può avere, non è vero, è vero, sta bene, ma è vero che si è uno attimo. È un'altra parte ma è vero che si sei un'unico Acho che è un'unico Che, Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.